Gli avverse condizioni meteo non fermano gli sbarchi di migranti sulle nostre coste. 350 quelli approdati nelle ultime ore in Sicilia. Tra quelli arrivati a Siracusa ci sono 48 donne e 51 minori, compresa una bimba di quattro giorni nata nel corso della traversata. Di nazionalità prevalentemente seriana sono stati soccorsi da due motovedette della Guardia Costiera a circa 25 miglia dalla costa siciliana. Il barcone era stato avvistato da un aereo Atlantic della Marina Militare e successivamente monitorato da mezzi della Guardia di Finanza e dalla nave Foscari della Marina Militare Italiana.